ciao a tutti da gaming tube il tempio dei giochi con il video di oggi vogliamo portarvi un nuovo gameplay di uno dei nuovi circuiti che saranno presenti nell'edizione di crash team racing nature fueled mi lascio quindi al video gameplay non badate alla guida perché non l'ho guidato io fatemi sapere se il video vi piace se il circuito nuovo vi piace e se non vedete l'ora di giocare al questo fantastico titolo rimasterizzato anzi rifatto da capo per playstation 4 e xbox one watch out oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.